Ah, per fortuna ci sei tu. Sei super, superautomatica. Mi chiedi come voglio il caffè, ristretto, lungo, se mi piace leggero, forte, extraforte. Amore, mi faresti un caffè come... Come sa fare solo lei. Macini il caffè all'istante. E io ho mosso solo un dito. Mmm, buono, eh? No, super. Nuove superautomatiche magnifica SD Longhi. Nespresso. Pretendetelo super.